Il dinamismo nasce dall'uomo, poi diventa ingegneria. L'estetica nasce dal desiderio, poi diventa design. L'innovazione nasce dal pensiero, poi diventa tecnologia. BMW Serie dietro. La prima auto di un mondo nuovo. Mi trovo sulla Piazza Rossa, la piazza più bella del mondo, dove il 101% della popolazione per farsi la barba usa Bic, non ci credete? Guardate, scusi, scusi, signor Zar, scusi, lei usa Bic? Sì, sempre. Visto? Hai freddo Aldo? No. I am calling you. Can't you hear me? I am calling you. Volvo 460 Mamma, nessun pannolino al mondo è più asciutto dentro e più asciutto fuori di Nuovo Lines, perché è l'unico con gli argini, due barriere esclusive di super assorbenza che attirano e catturano le fuoriuscite di pipì e in più Nuovo Lines è anche l'unico con morbidi elastici in vita. Tiene asciutto con amore e sta ancora più su perché in vita è alto e ha morbidi elastici in più. Nuovo Lines per maschietti e femminucce. Doco, il migliore amico del cane. Doco, 25 anni. Ancora per poco potete avere AX con uno sconto minimo di 700.000 lire. Ancora per pochi giorni sconti fino a 2 milioni su Citroen BX. Volate a informarvi dai concessionari Citroen! L'offerta vale solo fino al 31 gennaio.